ciao ragazzi bentornati in questo nuovissimo video e oggi giocheremo a block strike ho intenzione di fare di giocare alla modalità murder che sarebbe modalità assassino allora in pratica ci sta un assassino ci sta anche uno sceriffo guardate questo qua con la pistola e l'assassino ha un coltello lo deve tirare fuori e ammazzare la gente senza farsi scoprire dallo sceriffo se lo sceriffo lo scopre può anche spararlo e ucciderlo se purtroppo lo sceriffo sbaglia a uccidere l'assassino perderà la pistola e l'assassino potrà anche ucciderlo comunque ci vediamo quando questi tizi hanno finito ok ragazzi ho dovuto cambiare server perché ci mettevano veramente troppo tempo abbiamo 15 secondi per andarci a nascondere e possiamo essere murder bystander e bastante più di quello che sarebbe lo sceriffo allora vediamo che sarò io vediamo mai stander più di gol è incredibile ragazzi ma essere bastante più di quello murder quando sia in tanti è un miracolo per me almeno quindi qui abbiamo sto tizio mi sembra l'assassino perché sarà solo quindi comunque ti ucciderò capito tu capire le mie parole io mi suicido che bello la forza del suicidio ciao ciao rischiazza è ben meno questo ti uccido ti uccido ti uccido eh ti uccido ti uccido ti uccido chi se ne frega anche se non è lei viva i maschi no ma stava dietro mi stavo provando da coltellare schifosa comunque era femmina quindi non mi fidate mai delle femmine soprattutto le femmine sono un innocente sono bravissimo ti posso sposare eh se vuoi che bello ah comunque ho ucciso la femmina sbagliata ma comunque era una femmina quindi io mi do otto che bello comunque ragazzi vediamo che cosa sarà ora vediamo 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 perché il bystander fa schifo non può fare niente il bystander può essere solo assassinato oppure può sopravvivere grazie alle scerif ma appunto ci stiamo solo noi tre qua bellissimi ne? secondo me è uno di loro due vediamo che se ci stanno gli altri non ci stanno stanno all'interno alla villa mi seguono solo l'assassino eh ah che bello uno sicuramente almeno uno è sicuramente nella villa quando trovate uno è non ne ho fatto saltare è l'assassino lui 100% ho paura ne fuggo secondo me l'ho troppo fregato secondo me l'ho troppo fregato però per sicurezza salgo le scale ok non sa dove sono però salgo le scale e se lo salvo e mamma mia ok peccato che non ci sia il murder perché il murder sarebbe l'assassino no? perché il murder è l'inglese perché questo gioco è super inglese cioè ci stanno i turchesi gli inglesi gli afroamericani gli americani tizi tizi spazzatura ci stanno ci stanno ci stanno comunque in francesi ci stanno poi in tutta la mia vita di sto gioco forse io ce l'ho un anno un anno e mezzo due annetti comunque ho incontrato uno solo di italiano uno o due perché sono due anni comunque che c'è lo sto gioco quindi non è che mi possa riguardare comunque quando saremo murder ragazzioli vi prometto che farò più kill possible e non mi farò uccidere dal sceriffo prometto ragazzi prometto almeno ci proverò con tutte le mie forze secondo me è lei che io non ho fatto tanto tempo ah quindi devo comunque ho stoppato un attimo ragazzi perché è stato un tempo lunghissimo e non si è scoperto ancora chi è il murder quindi io in pratica sto per morire e gli occhi mi stanno accremando in pratica non lo scoperto lo scoperto lo scoperto imbecille un imbecille pare di fatto no la deagle dove la deagle ah l'ha presa sotto i imbecili no 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 non uccidere ti prego comunque sono sempre femmine i murder le femmine sono assassine schifose solo qui si era sceriffa il americano era innocente perchè lo sceriffo è stato ucciso malemente comunque 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 io comunque io comunque io comunque ancora vabbè ragazzi vi risparmio sta partita perchè voglio essere murder ok ragazzi scusatemi se non me l'ho fatto vedere però ho preso la pistola e ucciso l'assassino scusatemi però mi è scappato di mente comunque vediamo cosa saremo ora speriamo bene questa era l'assassina di prima vabbè un'altra volta ci vediamo quando diventerò assassino ok ragazzi siamo tornati è finita la partita ovviamente io non sono stato murder comunque credo che questo video sia un nobiosissimo quindi grazie se lo state guardando che bello comunque speriamo di essere mai un'altra volta bystander stavolta vi faccio vedere io ho notato che nelle fogne loro non ci vengono mai quindi se io mi nascondo qua sotto con tutta l'eternità loro non mi uccideranno credo comunque proviamoci provare non fa mai male ragazzi provare non fa mai male ah che bello ah che bello credo di essere stato un cretino esagerato oddio 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 che paura che paura che paura che paura che paura fa la la che paura la paura che ho avuto la paura che ho avuto la paura che ho avuto mi sono fatto la cacchina addosso la paura che ho avuto ragazzi mi sono fatto la cacchina addosso ragazzi me la sono fatta l'ho confesso me la sono fatta ma veramente sto scherzando è ancora bestandero ma porca miseria ma porca miseria porca miseria marder vieni qui uccidimi palla lì io voglio essere marder perché non lo posso essere chi sarà il marder chi sarà il marder chi sarà il marder io c'ho paura chi sarà il marder 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 vabbè ho credito di aver visto alloraう era una pistola non ho un coltello ma tu non sei bene schifoso giuventino comunque guardate chi mi ha ucciso bello bello felice felice che mi ha ucciso eccolo ragazzi ragazzuoli piccolini dolci vi regalo dei cuori piccoli dolci grazie delle amore comunque comunque un'altra volta ma io mi arrabbio con il gioco io mi arrabbio comunque ragazzi per voi ma per voi veramente io metto pausa e finché non divento assassino non riprende ciao sono stato cacciato dal server quindi non cerco un altro appena divento marda vabbè ragazzi ho provato a creare un server tutto mio mi dispiace per tutta l'attesa anche se vuoi pa è appena successo però scusatemi tantissimo se questo video non è stato tanto bello perché finisce anche qui mi dispiace veramente tanto però non posso farci niente non divento marda non entrano persone nel mio server e ste robe del genere capito raga quindi non so il video finisce qui mi dispiace di non aver finito completamente il video come il mio solito a 12 minuti però spero che a voi vi sia piaciuto tantissimo lasciate almeno 2-3 mi piace per far continuare questa serie mi raccomando io ho solamente 10 iscritti quindi sto pensando di chiudere il canale perché ho troppi pochi iscritti e non ne arrivano altri però se non volete che chiudo il canale sostenetemi per favore e io proverò a fare dei video più belli possibili e comunque a rendervi felici Comunque commentate se volete che io mi staglio qualche gioco per giocarci e rendervi molto felici per favore lasciate un mi piace commentate e ditemi nei commenti quali giochi vorrete che io giochi comunque è stato bello vedervi e ciao voglio 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 solamente riuscire a fare sto parkour per farvi vedere che io sto bravo a parkourare vabbè come già fa come già fa vabbè ragazzi ciao 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 ciao